Abbiamo ricevuto una lettera da parte di un gruppo molto grande di famiglie italiane, le quali chiedono addirittura un intervento da parte del Presidente della Repubblica Mattarella. La questione da risolvere è una questione politico-burocratica che ha a che fare con l'adozione dei bambini della Bielorussia. Non so se sapete che ci sono moltissimi bambini in Bielorussia che sono orfani e vivono in alcuni istituti di accoglienza. Questi bambini, soprattutto d'estate, per 4 mesi vengono accolti da alcune famiglie italiane che gli danno affetto, gli danno una casa per 4 mesi, per un soggiorno estivo e quando si affezionano le famiglie poi chiedono la possibilità di poterli adottare questi bambini che tra l'altro avrebbero molto bisogno, però per essenzialmente una questione burocratica non possono adottare questi bambini della Bielorussia. In seguito alle segnalazioni di diverse famiglie ho depositato degli atti ispettivi alla Camera proprio per risolvere questo problema. In più ho anche depositato una risoluzione sulla questione che propone al Governo di formare una delegazione politico-amministrativa che si rechi in Bielorussia per la risoluzione del problema. In più ho cercato di contattare il Presidente della CAI, la Commissione Adozioni Internazionali, che è l'organo che si occupa di queste adozioni. Ho provato ad incontrare la Presidentessa proprio per cercare di aiutarla dal punto di vista legislativo e politico, ma nonostante siano passati più di 3 mesi dalla richiesta non sono ancora stato ascoltato dalla Presidentessa. Ricordiamo che uno dei compiti della CAI è proprio quello di comunicare con le famiglie e con le associazioni, ma le stesse famiglie segnalano che non ricevono da molto tempo informazioni dalla stessa CAI. Apprendiamo dalle ultime notizie che le liste del 2013 sono state consegnate alla Bielorussia, ma adesso è necessario un intervento diplomatico da parte delle autorità. Ci rivolgiamo al Presidente della Repubblica affinché agevoli queste adozioni internazionali, quindi accolga l'appello delle famiglie e dei bambini, riportando in loro la serenità, perché non dobbiamo dimenticarci che i bambini rappresentano il nostro futuro.